Cambio di atmosfera, se siamo a Venezia questo è un canale più scuro, più piccolo, sentimento molto più sinistro. Il basso che ci annuncia il movimento delle onde. I primi riflessi dell'acqua sulle case. Prima piccola turbulenza, non sappiamo dove andare. Qualcosa si preannuncia dietro l'angolo, infatti arriviamo al primo momento di vera e propria passione. Lasciarsi andare, sentire proprio tutto nel corpo.